Domeniche ricordo del giudice Cesare Terranova e del maresciallo Lenin Mancuso. Ci saranno due parti di questa commemorazione? L'anniversario è il 42esimo, purtroppo dall'Eccidio. Le due parti sono la mattina, 9.30, nel luogo dove va bene l'agguato, la parte istituzionale con la deposizione di una conora loro, alla presenza dell'autorità e di tutti i cittadini che verranno a partecipare, nonché della scuola Media Piazzi, la cui preside e i cui insegnanti sono sempre stati presenti per dimostrare in maniera indelebilmente visibile il loro impegno e il loro attaccamento all'istituzione e anche alla legalità. Di pomeriggio, grazie alla compagnia teatrale che si è prestata per una rappresentazione teatrale, faremo una commemorazione al castello di Mare Dolce a Brancaccio, laddove ricorderemo le figure di Cesare Terranova e Lenin Mancuso e dove alla partecipazione, speriamo, di un vasto pubblico si potrà parlare anche di legalità, di momento di impegno e di attività che si può svolgere nei confronti della legalità a favore di chi è caduto ed è stato il campione della giustizia quando si è opposto alla tracotanza e a tutto quello che può significare la violenza mafiosa. Ecco, il rischio è che le giovani generazioni dimentichino poi ciò che è stato e soprattutto chi ha combattuto la mafia, è importante appunto coinvolgere le scuole. Infatti queste manifestazioni si fanno soprattutto per quanto riguarda la memoria perché i nostri caduti hanno due esigenze, anzitutto quelle di essere ricordati e quindi ricordare non è mai troppo, bisogna sempre insistere e far sapere quali sono appunto gli esempi da far eventualmente circolare e poi hanno una sete di giustizia perché molti di questi caduti purtroppo sono caduti senza forse manco sapere quale fosse realmente il mandante perché è purtroppo vero che molte volte in questi diritti sono stati individuati i killer ma non c'è un processo, dicasi un processo, che abbia individuato un solo mandante.